Continua l'atunno all'Ecomuseo del Casentino con un ricco programma di iniziative di diversa natura dove confermano il ruolo centrale dell'Ecomuseo del Casentino per la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse culturali del territorio. Sì, quindi iniziamo dal 9, con una veglia acetica dedicata appunto a mostri e tematiche connesse appunto con il bestiario locale, quindi storie, leggende su queste tematiche. Il 10 poi ci sarà la festa della castagna acetica con il pranzo che continuerà anche nel pomeriggio con una serie di iniziative e di animazioni. Il tutto continuo appunto sempre il 10 stesso a Molin di Bucchio in considerazione del tema delle veglia di quest'anno che sono i mostri, come abbiamo detto, ci sarà un approfondimento a cura di Anna Benvenuti dell'Università degli Studi di Firenze sulla figura del Badalischio, quindi una figura di un mostro tutto casentinese che ha un ruolo molto interessante nell'immaginario locale, molti sono i luoghi che sono connessi con l'apparizione di questo particolare mostro che ha origini effettivamente medievali e quindi in compagnia della professoressa Benvenuti approfondiremo questo tema sull'immaginario casentinese. Ecco, un ruolo centrale ce l'ha proprio la castagna che per quelle genti di montagna è stata una vera e propria risorsa. Sì, esatto, tutta l'iniziativa parte appunto per dare sostegno in qualche modo per valorizzare tutta una serie di feste legate a questo prodotto che caratterizzano soprattutto il pratomagno casentinese, quindi da Montemignaio a Cetica, a Raggiolo, a Faltona, a Talla, a Carda, tutti sono caratterizzati appunto da questo particolare tipo di prodotto e di piatti che vengono poi presentati.